Questi sono dieci moschettoni in alluminio con la sicura, comodi per la casa, per il campeggio, per pesca, per portachiavi, qualsiasi cosa. Sono tutti colorati, arrivano in un sacchetto, con ognuno un suo sacchettino, come potete vedere, molto carini. Quindi, allora, prendiamo uno, ecco qua, molto ben definito, a questa sua sicura, ok, quando viene chiuso vogliamo star sicuri che non si apre, e non si apre più. Quindi quando lo liberiamo, l'apertura è bella grande, ritorna da solo, la chiusura perfetta, molto comodo. Sono dieci, molto resistenti, quindi che dire, io sono contenta dell'acquisto, sono abbastanza grandi, come potete vedere, nella mia mano. Quindi io li consiglio a tutti, ciao!